Questa legge è stata condivisa sia dal Parlamento che dal Governo, è stata discussa come tutte le leggi e ci è sembrato di aver raggiunto un punto di equilibrio tra le esigenze giustizialiste, l'è usato questo termine, in cui la giustizia non sia mai giustizialismo, tra il carattere giustizialista di alcune richieste e l'estremo di non fare nulla, perché l'alternativa era di non fare nulla e lasciare le cose modificate. Le esigenze giustizialiste di quel momento mettevano voce ad una serie di richieste di far decadere o comunque di far uscire dal Parlamento tutti coloro che fossero sotto indagine. Io ricordo i titoli dei giornali, ricordo che si chiedeva a gran voce che tutti coloro che erano indagati per un reato uscissero dal Parlamento, si faceva il conto, si faceva l'elenco, credo che fossero qualche decina, addirittura se non sbaglio 60 o 68, e si diceva tutti fuori dal Parlamento. Naturalmente il giustizialismo è sempre suggerito dai fatti del momento, dall'emergenza, c'era in quel momento la scoperta di una serie di fatti di appropriazione, di uso distorto di denaro pubblico e dunque si chiedeva a gran voce che queste persone che si ritenevano non meritevoli uscissero dal Parlamento. Io ho sempre pensato invece che fino a che non arrivi una sentenza definitiva di condanna, la presunzione di innocenza che è tipica del nostro ordinamento ed è sancita dalla Costituzione non permetta di fare degli interventi così drastici come quelli di proclamare o chiedere al Parlamento di valutare la decadenza di un suo componente. La pronuncia della decadenza è una pronuncia del Parlamento. Noi abbiamo cioè ritenuto che dovesse essere rimesso al Parlamento qualunque decisione su un proprio componente, in ricompresa quella della decadenza. Così come si valutano all'ingresso tutti i requisiti per entrare in Parlamento, nel momento in cui interviene una sentenza di condanna è il Parlamento che deve decidere, non prendere atto, le parole nel diritto pesano, deve decidere se un suo componente, un suo membro debba decadere oppure di quali maniera in Parlamento. Grazie. Grazie. Grazie.